In occasione dei festeggiamenti di carnevale, la Guardia di Finanza ha intensificato i controlli a tutela del mercato dei beni e dei servizi con lo scopo di contrastare il commercio di articoli e prodotti potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori. I baschi verdi nell'ambito dei predetti controlli hanno individuato due esercizi commerciali dislocati sul territorio della provincia pitagorica che avevano allestito i loro negozi con numerosi accessori e vestiti a tema. La verifica avviata sui prodotti rinvenuti ha permesso di constatarne la loro difformità rispetto ai requisiti previsti dagli standard di sicurezza. Nel corso di questi controlli sono stati sottoposti a sequestro complessivamente 320.000 prodotti, molti dei quali esposti sugli scaffali e quindi immessi nel commercio. Fra la merce sequestrata figurano maschere di carnevale ed altre decorazioni in tema con l'imminente ricorrenza, costumi allegorici, papillonne, parrucche, cappellini ed adesivi glitterati. Questi prodotti di valore commerciale complessivo, diverse migliaia di euro, sono stati così tolti dal mercato e i titolari delle imprese ispezionate segnalate alla Camera Commercio di Crotone per l'irrogazione delle previste sanzioni pecuniarie da un minimo di 516 euro ad un massimo di 25.823 euro.